Presidente, in questo inizio molto positivo della squadra mancava solo la vittoria, vittoria che è arrivata oggi, una vittoria convincente davanti al nostro pubblico. Sicuramente è la squadra che adesso sta prendendo corpo, sta prendendo forma e soprattutto sta prendendo condizione. Questa è una squadra che è stata allestita per potersi confrontare da pari con tutti, è una rosa molto ampia che consente all'allenatore di poter affrontare qualsiasi tipo di squadra, soprattutto una squadra che ha forza fisica, potenza ma anche grande tecnica e quello che mi è piaciuto è soprattutto lo spirito di gruppo che emerge di una squadra compatta, determinata e volitiva.